Un tragico incidente avvenuto al chilometro 68 della strada statale 51 di Alemania nei pressi di Perarolo di Cadore in provincia di Belluno, causando la morte di una persona e il ferimento di un minorenne. La vittima è Vincenzo Martinazzo, 76 anni, originario di Montebelluna. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli, tre auto e un mezzo pesante. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco di Pieve e di Cadore, quelli della centrale di Belluno, insieme ai sanitari del Suem 118. Il minore ferito gravemente colpito nell'incidente è stato elitrasportato in ospedale per le cure necessarie. Secondo quanto riportato dal gazzettino, il ferito è il nipote della vittima, mentre i passeggeri delle altre due auto e del camion sono rimasti illesi. Le forze dell'ordine, in particolare la polizia stradale, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.